L'arte. Cos'è l'arte? Un minuto non basterebbe per descriverla, ma nemmeno una vita. E sarei un bugiardo se ammettessi di conoscerla, perché più tento di scoprirla, più essa sfugge. Posso solamente affermare che mi ha cambiato la vita e ne sono debitore. Ho deciso così di sfoderare tutte le mie conoscenze in questo ambito. A voi, a tutti quelli che vogliono imparare a disegnare e guardare oltre il disegno. Nasce così l'Atelier de Verrocchio, il canale YouTube che ti permetterà di padroneggiare e imparare l'arte del disegno. Dalla forma umana alla pittura, dalla geometria alla scultura. Io sono Leonardo e sono fiero di guidarti in questo viaggio.